Cari amici, di dite la vostra che io dico la mia. Dov'è finito il buon senso? Secondo voi in Italia ce n'è ancora? E perché pongo questa domanda? Perché il caso di Oristano, in cui una maestra viene sanzionata con la riduzione dello stipendio e la sospensione dal proprio lavoro per ben 20 giorni, credo sia emblematico di quello che ho chiesto. Dov'è finito il buon senso? Qual è la colpa di questa maestra che è stata appunto sanzionata, lo ripeto, con 20 giorni di sospensione dal lavoro e la riduzione del proprio stipendio? La gravissima colpa sta nel fatto che si è permessa, in una classe in cui tra l'altro era andata a fare una supplinza, si è permessa di far realizzare ai propri alunni un piccolo rosario e a far recitare il Padre Nostro e l'Ave Maria. Ora qualcuno potrebbe obiettare ma siamo in uno stato laico, la religione con uno stato laico un po' cozza, siamo l'Italia, l'Italia credo che abbia la propria radice culturale nella religione cattolica, ma nessuno vuole imporre agli altri la religione cattolica. La maestra ha fatto semplicemente realizzare un piccolo rosario e a recitare due preghiere senza pretendere che si diventasse cattolici. Ma tant'è, dove è finito il buon senso? Vi sembra corretta la sanzione ricevuta dalla maestra in questione? Io non posso che esprimere la mia piena solidarietà, sostegno e vicinanza a questa maestra, sperando e auspicando che il nostro paese possa recuperare quanto prima un po' di buon senso, che è quello forse che manca in tutte queste situazioni. Se proprio qualcuno non fosse stato d'accordo, tra l'altro la maestra ha dichiarato di aver chiesto scusa a quei genitori, la sanzione massima che il buon senso avrebbe previsto sarebbe stato un richiamo verbale da parte del dirigente scolastico. Ma così non è stata. La maestra è stata sospesa 20 giorni e soprattutto gli hanno ridotto lo stipendio. Questo è il nostro paese.